vorrei recensire rapidamente questo philips one blade 360 un rasoio elettrico taglia barba che ho preso recentemente diciamo che il costo non è alto possiede una doppia lama di cambio in quello scatolino è un pettinino volendo per accocciarsi i capelli o i peli del petto delle ascelle una copertura questa qua è impermeabile quindi in teoria si può usare credo per i primi 23 anni con tranquillità anche sotto la doccia poi dopo si suppone che questa impermeabilizzazione via via non ci sarà più si pulisce facilmente sotto l'acqua io lo uso a secco e per ora mi sto trovando bene occorre fare più di una passata sinceramente per poter eliminare la barbetta di 3 4 giorni circa sul corpo non l'ho provato ma credo funzioni bene non strappa non fa male assolutamente però ho visto tutte le recensioni positive che non tirava non strappava invece devo che su qualche peletto lungo e andando laterale anziché in verticale effettuare l'area satura qualche piccolo strappetto un po si sente se mi arrossa leggermente per via delle troppe passate che lascia la pelle davvero liscia e morbida quasi quasi identica a quello di una lametta in pelo sicuramente un contropelo direi di no perché qualcosina resta di ruvido però nel complesso devo dire che un buon prodotto che abbastanza basico ma con la lama di ricambio e leggevo nel manuale di istruzioni che ogni quattro mesi è consigliato cambiare la lametta che costa circa 10 euro ogni ricambio quindi diciamo che con 30 euro all'anno avremo la nostra barba sempre tagliata e ogni tanto magari anche l'ascella i baffetti volendo i dintorni delle sopracciglia peli delle orecchie devo ancora provare per il corpo consiglio di usare più la macchinetta che si usa per i capelli che non questa più che altro anche se funzionasse per non rovinare la lama e per non doverla cambiare del tutto ogni due mesi anziché ogni quattro mesi se consiglio questo prodotto attualmente dopo una settimana di utilizzo direi di sì che in commercio c'è davvero molto poco di migliore poi magari se non sarà così aggiornerò la recensione